Collega, ti vedo particolarmente pensieroso. Eh, per forza. Sto pensando che tutti quanti, con chi parla e parla, parlo con uno, voglio essere felice. Parlo con l'altro, voglio essere felice. Ma c'è sto felice? Non lo so, ma perché qua non è che li conosco tutti. Forse un di quei due. Chi, chi? Felice! Felice! Allora, come sei finito dentro? Abbiamo fatto una rapina al casino e è andata male, eh? Malissimo. Come mi pensi, siamo entrati al casino e abbiamo puntato le armi. E beh? E le abbiamo perso. Numero sbagliato. Che numero? Quattro, figli, semmi cuglio. Voglio essere felice. Anch'io voglio essere felice. Voglio essere felice. E che cosa ti dicevo, eh? Ma che c'è sto felice? Non lo voglio, non lo voglio fare. No, a porta a porta. No, a porta a porta. Stai.